E' ormai questione di ore e la ASDA di Brindisi avrà il nuovo direttore generale. La rosa di nomi si è ristretta dopo la rinuncia di Janco Tedeschi. In Pol sembra esserci Gianluca Capochiani, attuale direttore amministrativo della ASDA di Bari. Restano ancora buone le piste che portano alla manager italo-americana Joseph Polimeni e a Gabriele Argentieri, direttore amministrativo per la ASDA di Brindisi, degli ospedali di Francavilla Fontana e Ostuni. Le ultime indiscrezioni in ordine di tempo però vedono salire le quotazioni proprio di Capochiani. La scelta definitiva che porterà alla nomina del nuovo direttore generale potrebbe avvenire entro pochissimi giorni. Ogni momento che passa vede la ASDA Brindisi a sprofondare in un baratro sempre più profondo. Ecco perché la nomina del nuovo direttore è diventata più che urgente, perché solo così si può avviare la procedura necessaria a far acquisire i pieni poteri operativi e il direttore generale scelto, che avrà tra le sue priorità, c'è da giurarlo, quella di verificare lo stato dei tre ospedali della ASDA di Brindisi, Perrino, Francavilla e Ostuni, che al momento sembrano essere più simili ai gironi dell'inferno dantesco, che a luoghi di soccorso e cura. Il nuovo direttore generale è avvisato.